Ripeto ancora un pareggio, questo Teramo ci prova, ci prova con tutte le sue forze ma il gol non si vede. Beh però hai detto una frase, si prova con tutte le sue forze, quindi credo che sia da lodare l'idea che ci provi, ci arrivi anche molto vicino, poi per magari un po' di personalità che ci può mancare, un po' di inesperienza in certi casi non riusciamo a concludere, però nel secondo tempo oggi hanno avuto un'occasione loro su un errore nostro, ma noi siamo arrivati cinque volte a contatto col portiere loro, quindi credo che la squadra abbia fatto quello che può. La difesa c'è, ma l'attacco obiettivamente manca? Beh manca, il discorso è che se tiri la coperta da una parte ti scopro o ti ho i piedi o la testa, quindi in questo caso abbiamo coperto un po' più la testa e ci siamo scoperti un pochettino i piedi, penso che abbastanza normale, non può essere una squadra che è detta legge perché è una squadra composta da tanti ragazzi giovani, anche inesperti, abbiamo qualche giocatore per fortuna che ha campionate sulle spalle e via dicendo, però credo che stia facendo quello che può, quindi io quando vedo dei giocatori che danno tutto, credo che posso essere soddisfatto io, che non lo sono nel senso che potevamo chiudere questa partita, però credo che la gente se vede l'impegno debba essere soddisfatta. Varas ha fatto inserimenti eccezionali, è arrivato a contatto del portiere più volte, probabilmente questa mancanza di, non dico personalità, forse di determinazione per arrivare a chiuderla bene l'azione, non ce l'ha, non lo ha portato a fare la scelta giusta, una volta magari doveva tirare a crossato, la seconda poteva appoggiare a bacio Terracino e invece ha tirato, però l'importante è che ci siano queste azioni, mi sembra che l'allenatore in campo la squadra l'abbiamo messa più che bene sempre, abbiamo giocato contro squadre come farà il Pissarò che oggi, non so, dalla panchina ha fatto entrare Marchi, Dettori e altri giocatori che hanno fatto la sedia B. Noi rispondiamo con i nostri ragazzi giovani e credo che nel tempo speriamo di mantenere, anzi io sarei contento di riuscire a mantenere una posizione come quella di oggi, perché non ci dobbiamo dimenticare che è una squadra costruita in parsimonia, cercando di arrivare alla salvezza attraverso il lavoro, attraverso la volontà. Infatti nonostante questi nomi altisonanti il Terramo non ha assolutamente sfigurato. No, appunto, però chiaramente già domenica andiamo a incontrare la prima in classifica, domenica dopo avremo quel Padova che è la terza società che ha costruito una squadra per vincere, quindi abbiamo un calendario duro con dieci partite fuori casa e giornata andata, otto solo in casa, siamo riusciti a non perderle queste partite e onestamente domenica mi sembra che fosse gol la punizione di Tulli e oggi abbiamo avuto parecchie occasioni da gol, credo insomma alla fine se avessimo vinto saremmo tutti più felici, però io credo che a vedere l'impegno e la voglia di fare dei ragazzi e dell'allenatore e tutti quanti credo che uno debba essere soddisfatto.